Buonasera mister, prima domanda che le faccio. L'Inter meritava di più stasera? Beh, senz'altro. Questo è fuori discussione, però il calcio, fatto di episodi, purtroppo un rigore all'ottantanovesimo ci ha condizionato la partita e il risultato. Mister, però di nuovo una bellissima Inter che continua a creare tantissime occasioni. Si riparte da questo? Senz'altro, si riparte dalla prestazione. Chiaramente dovremo analizzare l'episodio finale perché una squadra come la nostra, esperta, deve essere più attenta in quei momenti, in quei frangenti. Prossime domande da studio, Marco Androlli, riporto io la tua domanda al mister. Saluto al mister, volevo chiedergli se è più amareggiato per i due punti persi o più soddisfatto comunque per la prestazione. Secondo me è la miglior prestazione dell'Inter di quest'anno, proprio a livello di consapevolezza, di maturità. Assolutamente sì, sono due punti persi perché avremmo meritato molto di più. Purtroppo questo è il calcio, è fatto di episodi, gli episodi ci sono stati contrari. Ripartiamo dalla prestazione, sappiamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di analizzare bene le cose in quei frangenti perché stasera al di là dell'ottantanovesimo ho poco da rimproverare ai ragazzi. Marco ultimissimo da te, riporti al mister. Sì, volevo sapere al mister se per cancellare questa delusione viene bene la partita subito, tornare in campo tra tre giorni e pensare subito alla prossima gara che diventa quella più importante a questo punto. Beh, senz'altro, insomma, ci avremo subito una partita fra due giorni importantissima, non semplice, contro una squadra in salute, dovremo essere bravi a organizzarla nei migliori dei modi. Grazie mille, la vostra buonanotte. Grazie mille, la vostra buonanotte.